Ciao, io ascolto musica indipendente Ciao, anch'io ascolto musica indipendente Io sono indie, intellectual mode, radical chic Ascolto solo alternative rock, convenature post-punk, slowcore, dream pop, trip-hop, space rock Bah, io ascolto solo quello che mi piace Io un sacco di radioloni vintage, ma non li accendo mai, ascoltare la radio fa troppo mainstream Io ascolto indie per cui Indie per cui E così indi che nemmeno si vede, si sente Su Radio 103 ogni mercoledì alle 21 E in streaming su www.radio103.tv